Ciao a tutti, in questo episodio parliamo dei nuovi trigger radio della Cactus, i Cactus V6. Quest'anno sono usciti sul mercato i nuovi trigger radio della Cactus, i Cactus V6. I trigger radio, per chi non lo sapesse, servono a far scattare i nostri flash staccati dalla macchina fotografica, così da poter utilizzare le tecniche di illuminazione da studio, con comunque una soluzione abbastanza economica. I V6 portano tantissime novità nel mondo dei trigger radio, ma quella più grande è la possibilità di controllare a distanza la potenza dei flash RF60, anche essi usciti quest'anno sempre della Cactus, e di tantissimi altri flash di molte marche diverse. Ogni unità V6 è un'unità ibrida, questo vuol dire che può essere sia un trasmettitore che un ricevitore. Dobbiamo semplicemente selezionare dal tastino laterale quale modalità dobbiamo utilizzare. Ha 4 gruppi di controllo dei flash e 16 canali. Con il Cactus V6 diventano molto importanti questi gruppi, lo vedremo tra un attimo perché. Comunque l'alimentazione va a due batterie stilo, che si infilano nel vano laterale, oppure possiamo alimentarlo anche da un attacco mini USB che c'è da quest'altro lato, e questo attacco mini USB può anche servire per fare l'aggiornamento del firmware dei V6. Questo vuol dire che attaccandolo al computer e usando il software originale Cactus possiamo migliorare effettivamente le prestazioni dei nostri trigger. I trigger V6 sono chiaramente più compatibili con i Cactus RF60, questo perché i Cactus RF60 contengono al loro interno un trigger V6, quindi se compriamo questo tipo di flash e utilizziamo i V6 possiamo effettivamente comprare un solo trigger e i flash al loro interno sarà automaticamente possibile controllarli a distanza, sia per farli scattare sia soprattutto come potenza. E posso dare una veloce dimostrazione di questo immediatamente. Metto in modalità trasmettitore il mio trigger e vedo che si è acceso il LCD nella parte dietro, che mi permette di controllare i dati dei singoli flash. E questi quattro tasti si indicano quali gruppi al momento ho selezionato. Quindi quando sono accese le lucette effettivamente sto scattando i gruppi selezionati. Quindi accendo il mio flash e in questo momento il mio flash si trova nel gruppo A. A questo punto semplicemente ruotando la ghiera dietro al mio flash posso passare da piena potenza, diciamo un primo, posso andare facilmente a un quarto di potenza e vedo che il flash è andato a un quarto di potenza e non ci ha attaccato nessun altro trigger, quindi posso facilmente attaccare questo flash a un cavalletto con un ombrello oppure all'interno di una softbox di quelle stile Apollo, quindi dove non è facile accedervi velocemente e cambio la potenza soltanto dal mio trigger che sarà montato sopra la mia macchina fotografica e se voglio scattare in questo caso posso usare il tasto di test e se scatto appunto sto scattando e posso velocemente andare ad esempio a un sessantaquattresimo di potenza e scatto e il flash è molto più debole, non sono sicuro che anche è possibile vederlo durante il video. Un'altra caratteristica interessante di V6 è il fatto che possiamo controllare la precisione della potenza non solo con salti di uno stop, quindi per esempio a piena potenza, un mezzo di potenza, un quarto di potenza ma possiamo andare anche su frazioni più piccole, quindi possiamo andare su salti di un terzo oppure su salti anche di un decimo e quindi ci permette un controllo molto di fino sulla potenza e sul rapporto delle varie luci. Come ho detto i V6 possono funzionare non solo con gli RF60 per quanto riguarda il controllo a distanza della potenza ma se impostiamo il nostro V6 come ricevitore, quindi idealmente attaccandolo sotto a un flash o con il cavo PCSync e andiamo nel menu di selezione possiamo vedere che c'è la voce di scegliere il profilo possiamo scegliere un profilo se Canon, Nikon, Pentax oppure flash manuale in questo caso per esempio prendiamo Canon e alla voce Canon possiamo vedere che abbiamo una lista molto lunga di diversi modelli di flash come per esempio i Canon originali, i diversi Mets, i Nissin, Sigma e anche lo Yongnuo 568EX questo vuol dire che impostando il profilo giusto e attaccando sopra questo flash a quel punto si comporterà esattamente come si comporta un RF60 e quindi potremo controllarne la potenza direttamente dal nostro V6. inoltre c'è un'altra buona notizia ovvero che anche se i nostri flash non sono in questa lista ma se hanno la funzione TTL classica quindi non quella completamente digitale è possibile usare un procedimento che mostrerò in uno dei prossimi video è possibile fare un procedimento che ci permette di insegnare al nostro V6 come si comporta questo flash e qual è la potenza di questo flash quindi essenzialmente si tratta di attaccare il flash sopra il V6 il V6 ci dà alcuni comandi come ad esempio mettere in TTL, mettere a un mezzo di potenza, un sedicesimo e così via in questo modo con il sensore ottico sul davanti il V6 è in grado di capire come gestire questo flash e a quel punto una volta finito questo procedimento se è andato a buon fine avremo un profilo che potremo anche copiare tra i diversi trigger per utilizzare un nostro flash che non era previsto insomma nella lista ufficiale un'altra funzione molto avanzata con i flash che permettono controllo remoto è la possibilità di controllare questa potenza in maniera assoluta visto che ogni ricevitore infatti conosce il flash che sta attivando conosce anche qual è la quantità di luce effettivamente che emette questo flash in questa maniera il trasmettitore comunicando con i ricevitori può fare in modo che ogni flash emetta la stessa quantità di luce a dispetto della marca del modello questo perché infatti ogni flash anche della stessa marca ogni modello ha una certa quantità massima di luce che emette e da lì partono le frazioni che siamo abituati a utilizzare per controllare quindi un mezzo di potenza su un flash ad esempio su un Lumo Pro può essere completamente diverso da un mezzo di potenza di un Canon originale oppure di un Nikon i Cactus V6 inoltre sono ottimi trigger anche per essere utilizzati con dei flash normali di flash a controllo manuale sono dei trigger a 2.4 GHz che è la frequenza standard ormai per i trigger che permette una grande affidabilità la distanza massima assicurata è di 100 metri di scatto il loccio sulla parte superiore è possibile attivarlo come TTL passthrough quindi vuol dire che possiamo attaccare sopra la nostra macchina fotografica il V6 e sopra attaccare un qualsiasi flash con il controllo TTL in questo modo il flash sopra il V6 continuerà a comunicare direttamente con la nostra macchina fotografica inoltre il sensore ottico ci permette di attivare la modalità in cui praticamente il V6 fa da slave quindi può percepire la luce in una scena e può capire quando viene scattato un flash anche con le impostazioni per i pre-flash TTL e inoltre c'è la posizione di delay che ci permette di scegliere un certo lasso di tempo dopo un certo ritardo dopo il quale il flash effettivamente scatta e questo ci permette di fare quel tipo di fotografie dove per esempio abbiamo una persona che salta abbiamo la scia della luce ambientale che si ritrae dietro alla persona e la persona invece viene nitida perché è illuminata dal flash tendenzialmente con i flash manuali questo non è possibile visto che viene scattato il flash nella prima tendina invece in questo modo attivando un ritardo possiamo scattare nella seconda tendina e questo lo dimostreremo in un episodio apposito faremo vedere appunto come si può utilizzare questa tecnica per fare delle foto più d'azione i Cactus V6 sono inoltre retrocompatibili con i Cactus V5 o anche i sensori laser LV5 questo vuol dire che potremo utilizzare questo setup misto di ricevitori chiaramente i ricevitori che verranno usati delle versioni precedenti non avranno un controllo remoto il prezzo dei V6 si aggira sui 40 euro e secondo me per chi soprattutto sta iniziando in questo momento a costruire il proprio correddo di trigger e flash questa è una soluzione molto comoda soprattutto abbinata ai flash RF60 che tratterò in un inventario a parte queste due unità dimezzano praticamente quasi dimezzano lo spazio occupato in una borsa dato che ci basta avere i flash che vogliamo usare e un trigger non ci dobbiamo preoccupare di altre batterie oppure di altre trigger e altre attrezzature inoltre rimane il fatto che abbiamo controllo completo sulla potenza in remoto e questo sicuramente non è una cosa malvaggia per chi invece come me ha già un sistema di trigger e di flash completamente manuali diciamo che il passaggio chiaramente è un po' più difficile ma quello che fa molto gola è questa possibilità di controllare i flash in maniera remota e a questo punto diventa sensato come acquisto avere almeno un flash con il controllo remoto che sia l'RF60 o anche un qualsiasi dei flash compatibili e usare questo come trasmettitore in questo modo possiamo mantenere per esempio per le luci principali dei flash manuali che sono facilmente accessibili e per quella posizione, per quel flash che viene usato in posizioni strane come per esempio molto in alto oppure all'interno di particolari modificatori possiamo usare un flash a controllo remoto in questo modo non abbiamo bisogno di perdere tempo a cercare di raggiungere il flash e impostare la potenza in altri video che ho intenzione di fare vi dimostrerò un po' le funzioni più avanzate questo era un quadro generale sulle caratteristiche del V6 e mi auguro che sia una serie di informazioni che possa tornarvi utile e possa spiegarmi un po' i dubbi su quali sono effettivamente le novità che porta questo V6 per questo inventario è tutto e ci vediamo al prossimo episodio un po' i trigger radio della cactus